Microsoft con Windows 10 si è aperta maggiormente agli sviluppatori, di qualsiasi genere, questo perché il sistema operativo deve essere più accessibile e disponibile per molteplici dispositivi e tipi di utenze. Questa è la filosofia che ha voluto portare avanti Microsoft in questi ultimi anni. Per migliorare il proprio prodotto, appunto MS ha lanciato l'iniziativa di far testare pubblicamente le varie versioni di Windows, non in un determinato momento, ma ogni qual volta devono essere rilasciati nuovi aggiornamenti corposi. Per dirla in un'altra maniera, Windows 10 è disponibile anche in versione alpha e beta, se vogliamo definirle così le versioni di anteprima. In questo modo, per chi è interessato naturalmente, può provare le nuove funzionalità che saranno implementate nella successiva versione stabile che sarà rilasciata al pubblico. Questo concetto c'era anche quando stavano per essere rilasciati i precedenti sistemi operativi, come gli ultimi Windows 8 e 8.1, però la procedura per il test era meno accessibile e non ottimizzata per mandare segnalazioni costanti. Adesso con Windows Windows 10 chiunque può cimentarsi a mandare feedback. Non è necessario avere un particolare abbonamento o acquistare una determinata versione dell'OS. La procedura per provare le build acerbe si trova nel programma Insider, presente nell'app Impostazioni. Fate clic su Inizia e successivamente accedete col profilo Microsoft che intendete registrare con l'etichetta Insider. Allora, state bene attenti a questi passaggi, così potrete installare la versione che più desiderate. Ci sono vari rami di sviluppo, fino a poco tempo fa ce n'erano di più. Ora sono scesi per fortuna tre. Lento, veloce, versione di anteprima. La lenta consente di provare la versione relativamente più stabile, quella già testata nel ramo veloce, quindi i bugs saranno di conseguenza minori di numero e meno gravi. La veloce, come avrete ben intuito, è il ramo per così dire più rischioso, dove bugs e malfunzionamenti generici saranno all'ordine del giorno, però consente di provare subito le nuove funzionalità implementate rispetto alla lenta. Quindi sarà un ramo dove le build verranno rilasciate per prime. Infine, versione di anteprima. Direi che potevano rinanimare meglio questo campo, visto che in tutti i rami c'è la versione di anteprima, però non stiamo a confonderci. La versione di anteprima è simile alla lenta, è più ottimizzata diciamo per dare un'occhiata allo sviluppo in corso di app, drivers e altri aggiornamenti. Se siete indecisi vi lascio qualche esempio riguardo la mia esperienza fatta con questi vari rami. La veloce ve la sconsiglio, è mal tradotta nella lingua che preferiamo, ci sono proprio intere voci, parti, scritte solamente in inglese e per chi non mastica bene questa lingua è meglio non provare questa opzione. Inoltre ci ci sono tanti ma tanti bugs, anche gravi dove magari mancheranno alcune parti grafiche, oppure app e programmi si congelano, nel senso che non rispondono e devono essere riavviati spesso, nel peggiore dei casi non si avviano proprio. Mi ricordo che AutoCAD, che lo utilizzo per lavoro, non si avviava in nessun modo e sono stato costretto a formattare il PC per passare alla versione stabile di Windows 10, vi parlo di quattro anni fa, però questo problema si può ancora facilmente verificare. Io direi che l'opzione migliore è di scegliere il canale lento, ovvio non avrete le funzionalità appena rilasciate, ma non scandalizzatevi perché le ritroverete poi a breve. Ultima cosa, poi andiamo avanti, io vi ho espresso concetti generici, se andiamo nello specifico, il canale veloce, in questo periodo, fa giornare a due successive versioni del sistema operativo rispetto a quella odierna. Mi spiego meglio, se io opto per il canale lento, proverò la versione che sarà resa pubblica a tutti a maggio 2020, se io invece vado sul canale veloce, riceverò la versione di ottobre 2020, questo per farvi capire che tipo di distanza di versione c'è fra un ramo e un altro. Andiamo finalmente avanti, qui Microsoft ci avvisa che saremo bersagliati, utilizzando questo termine estremo, di analisi di telemetria, perciò molte informazioni verranno prese per ogni operazione che svolgeremo sul sistema operativo, quindi in un senso più indiretto ci sarà meno privacy. Poi ci avvisa, intanto vi ho avvisati anch'io prima spiegandolo, che la versione che installeremo sarà in compagnia di bugs e malfunzionamenti vari. Andiamo nuovamente avanti per far riavviare il PC, se avete qualche programma e qualche progetto non salvato, sistemate queste cose e poi potrete fare anche un riavvio manuale. Se non vi fa riavviare è perché avete impostato in precedenza un livello basso di analisi dei dati di diagnostica e di utilizzo, ma non vi preoccupate basta fare clic su conferma e adesso non dovreste aver problemi a riavviare il PC. Una volta entrati su Windows andate a verificare l'avvenuta modifica nella stessa voce del programma Insider, se tutto è andato bene dovreste veder selezionato il ramo per la quale volete partecipare. Se avete cambiato idea potete benissimo impostare un diverso canale e riavviare di nuovo il PC. Andiamo a ricercare l'aggiornamento tramite Windows Update e come per magia ecco la build di anteprima che sarà scaricata ed installata. Bene, una volta pronta la nuova versione di test, non vi resta che divertirvi con gli altri utenti Insiders a mandare feedback a Microsoft per migliorare questo prodotto. Non sto qui a farvi vedere come si fa a mandare segnalazioni e quali differenze ci sono tra una versione stabile acerba di Windows, perché ci sarebbe tanto da dire ma veramente tanto. Perciò io direi che l'argomento può concludersi. Fatemi sapere nei commenti se vi siete messi la benda come la mascotte Insider e noi ci vediamo ad un prossimo video.